Novo appuntamento con Baschettando, siamo all'Empore Occhiali Factor Outlet a Gravellona insieme a noi Marcello Dip, ciao Marcello, ciao Dani, come stai? Bene bene, a posto, contento dopo la vittoria a Livorno, aspettando domani di provare a far risultato di nuovo Caciucco, prima della partita, perché c'è stata una partita quasi una passeggiata Sì, dopo è stata una passeggiata, dopo la partita possiamo dirlo, però prima eravamo tutti tesi perché sapevamo che, come hai detto tu prima, che stavamo parlando, venivano di fare due partite importanti e poi se la prendi un po' così la partita può andare male, quindi siamo arrivati lì carichi abbiamo messo le cose subito a posto e poi il terzo quarto quarto è stato più che un allenamento però se non la prendi così queste partite possono iniziare male e finire malissimo Anche per la Vina VCP la partita di domenica è stata poco più che un allenamento insieme a noi Simone Fornare, ciao Simone Ciao Federico Sì, Simone, buonanotte Oggi non sono in grande forma, possiamo dirlo perché non sono in grande forma Ho anche scritto Simone sul sito però, stamattina, quindi non mi hai ammonito Poi quando ho visto prima ho detto ciao Simone e non mi ha detto No, Federico mi ha detto prima No, vedi, allora FF fa niente Federico, insomma è stata una partita abbastanza semplice anche la vostra Sì, sì, è stata una partita abbastanza semplice, abbiamo subito, diciamo, fin dal primo quarto giocato con la giusta testa, giusta determinazione E poi sono entrati anche i ragazzi che hanno fatto bene, molto bene anche loro E abbiamo tirato con percentuali alte, veramente buone E quindi è stata una buona partita Il reale Federico, insomma, 123 punti Bisogna anche saperli segnare i canestri Non è mai facile metterne 123 Massimo, quante volte hai messo i 123? Mai Mai? Io in tutte le squadre che ho giocato mai, non mi ricordo di aver fatto sì Oltre 100 sì, ma 123, non sapevo che Mi immagino coach Fabri, complimenti a coach Fabri che sicuramente guarderà Sì, 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 a Pescara È un gran professionista Sono sicuro che farà molto bene con loro Non voglio dirlo, ma sono convinto che Le aspetta il prossimo anno, il ritorno in Serie B Sì, sono forti, sono bravi Allenati, è un allenatore molto capace Ecco, insomma, miele per coach Fabri Dunque, anche gli altri No, il microfono tienino pure tu Federico e Marsello in quella zona Gli altri due aspetti Abbiamo parlato tanto prima di presentarvi Però vogliamo far crescere la sospanza Perché insomma, non capita tutti i giorni di avere Marco Di Pizzo Eh sì, ora Fortunatamente ho avuto un esito positivo Quindi dovrei riniziare a ingranare un pochino E dare una mano non solo dalla panchina Ma anche in campo a tutta la squadra E speriamo appunto di puntare sempre in alto Sarei preparata la domanda? Perché io non gli ho fatto nessuna domanda Gli ho dato il microfono Lui aveva questa risposta Assieme a Marco, Luca Marcellino che debutta Ciao Luca Ciao a tutti Lo ha detto prima Federico Minuti anche per te Domenica, una bella soddisfazione Sì, sicuramente l'esordio è stata una soddisfazione enorme E specialmente farla davanti al pubblico di casa Quindi è stato ancora più bello e più emozionante col tifo Insomma, sono contento, molto contento Marcello, e poi tutti e quattro Insomma, tra le note liete Nella trasferta di Livorno Lui faceva riferimento prima al desordio Ai punti segnati in casa anche di tanti ragazzi Di Ravinovici Pir C'è per esempio Ci sono stati i canestri dei ragazzini Di Ramenghi, di Guala Assolutamente sì Sì, loro, diciamo che la società C'è questi due o tre ragazzi molto interessanti Parlando sul serio Cioè, sono convinto che si continuano a lavorare bene A venire a tutti gli allenamenti Perché non è facile oggi come oggi Avere ragazzi di 16-17 anni Che si allenano E loro, con tutti questi infortuni che abbiamo avuto all'inizio Sono stati molto importanti per noi Quindi, che loro giochino questi ultimi due o tre minuti in Serie B È molto molto interessante Lo hanno fatto bene Loro si impegnano tantissimo Penso che tutti noi, i più grandi Siamo molto contenti di loro E mi fa piacere dirlo anche in questa trasmissione Che loro per noi Sono importanti Dovano continuare a fare quello che stanno facendo Anche se non è facile Perché è un ruolo difficile Quando manca Simoncelli Ramenghi deve fare playmaker Non è facile far girare la squadra come lo fa Simoncelli Neanche per un senior Però sono sicuro che Ramenghi si continua a fare Quello che sta facendo Fare una bella carriera Federico, poi chiedo anche a voi due Su quello che diceva Marcello sui giovani Quanto è difficile essere un under in una squadra senior? È abbastanza difficile soprattutto quando si è Una squadra come quella che sono io in questo momento Hai dei senior che sono veramente preparati Veramente sempre concentrati Soprattutto questa è la differenza tra un senior e un under Nel senso che dal mio punto di vista Un senior è sempre comunque lì con la testa È sempre in allenamento Magari l'under a volte tende più a Diciamo Uscire un attimo Con la testa all'allenamento E tutto Questa è la differenza sostanziale Marco e Luca? Per me è molto importante Perché poi ti fa crescere anche Ti aiuta Come ha detto appunto È sempre sul pezzo E ti indica dove hai sbagliato Dove puoi migliorare E così via Certo Essere under come ha detto anche Federico In una squadra in cui i senior Sono di un certo livello Di un certo valore Non è semplice Io lo vedo più Diciamo Diciamo Essere un under Lo vedo come un lavoro un po' dietro le quinte Più che Magari essere Più in vista Così Aiutare come ha detto Marcello In allenamento Quando magari purtroppo Facciamo le corna Si fa male Qualcuno di importante Qualcuno di grande Riuscire a dare un contributo E riuscire a fare Degli allenamenti Diciamo Non che non si riesca a giocare Così Ma dare il cento per cento Che non è Per esperienza Non è facile Nel senso Stare dietro ai grandi E A certi schemi Senza avere magari Delle esperienze Non è facile C'è un ospite Che sento dietro Non so cosa sta succedendo C'è poi il cane Cos'è che è il cane Come si chiama il cane? Ivan? Ah Tiva Io non sento come si chiama Io non ho capito Tiva Che nome è? Eh no Vabbè dopo Quando mandiamo la pubblicità Cerchiamo di capire Che nome si chiama Marcello sei un po' Il leader di questa squadra Insieme a Simoncelli? No ma Leader Io non sono mai stato un leader Innanzitutto sono un compagno Che pensa a far bene Per la squadra Ho avuto la possibilità Di giocare con tanti Grandi giocatori Non penso alla parola leader Sicuramente mi piace Sì dare dei consigli Di dire ai ragazzi Che per vincere Bisogna non guardare le statistiche Che è la cosa più importante E quest'anno È la cosa Che dobbiamo fare tutti Perché siamo una squadra lunga La società ha messo A disposizione Le staff Una squadra lunghissima Quindi dobbiamo essere consapevoli Che tutte le partite Non saranno mai Uguali Poi È vero sì Che quando Stiamo nel spolatoio Proviamo a gestire Un po' Le situazioni Ma Alex è un bravissimo ragazzo E non penso Che si senta leader Neanche loro Neanche lui Essendo capitano Io non me la sento Quindi siamo tutti Alla pari Possiamo sì dare Qualche consiglio in più Ma Diciamo che questo È un gruppo bellissimo Di gente Che si allena Molto molto bene E stiamo crescendo Piano piano Ancora Manca tanto Per poter arrivare Fino alla fine Ma ci proveremo Sono convinto Che Siamo 11 12 Con i ragazzini Leader Quest'anno Perché Chiedo se Serrone è il leader Di Domo Che è stato anche Allenatore Domenica Però Adesso lui dice Che non è leader Se Muceli è il capitano E quindi il capitano È il capitano Però Dovremmo avere una telecamera Solamente per Marcelo Dip Durante anche le partite Asciuga mano in mano Sempre un consiglio Sempre uno sprone Sempre una parola L'incitamento Sì sì Questo ovviamente È sicuro Su quello Già dall'inizio Prima anche di iniziare Gli allenamenti Ho subito visto Nell'impronta di Marcelo Come un qualcosa di più Come diciamo Un maestro Che mi dava già insegnamenti Su tutto E quindi Poi ora Sperando di rientrare Anche in campo Sarà una cosa Sempre migliore E quando è che ritorni? Ora dovrei riniziare Ho iniziato oggi Un po' a corricchiare Quindi Spero di Prima possibile Gio due settimane Serroni Meglio da capitano O da allenatore? Entrambi Diciamo che Ha dato Cioè È stato Un grande Alla fine Non è stato facile Penso comunque Per un giocatore Così Trovarsi una squadra Da gestire Ovviamente Con gli aiuti Di Coach Fabri Nascosta dietro Però Ci siamo trovati Tutti bene Molto bene Federico? Sì Allora Serroni Serroni è sicuramente Un gran giocatore E Ha fatto anche L'allenatore In modo Come diceva lui In modo Impeccabile Impeccabile Perché come vedi Il risultato È stato molto buono Quindi No Serroni è un giocatore Veramente Veramente Oltre a essere Molto buono Tecnicamente Come sappiamo tutti Anche in spogliatoio Comunque Essendo anche Diciamo Il più anziano Della squadra Aiuta sempre I giovani Ti dà sempre Una parola in più E poi In partita Lo vedi anche Magari quando Gli altri sono Un pochino più agitati Lui lo vedi sempre Molto tranquillo Anche magari Quando si va sotto Nel punteggio Questa è una cosa Che ho notato E a me sinceramente Mi aiuta molto Vedere un giocatore Capito Si che fa un po' Da Esatto Da 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 Valium Per gli altri Le pagelle di Livorno Non c'ero io Le ha fatte Il nostro grande Daniele Bagnati Le pagelle Simoncelli Sei e mezzo Dopo un primo tempo Di studio Nel terzo quarto Alex rimette I panni Del professore E per gli alunni Di Livorno Non resta che Abbandonare l'aula Brigato Sei e mezzo Come ad Alba Quindici giorni fa Non tira benissimo Ma ha il merito Di mettere una tripla Nell'unico momento Di affannamento Offensivo Della Paffoni Benedusi Sette Continua la crescita Del giocatore Ex Rieti Una presenza costante Se è in attacco Se è in difesa Arrigoni Sette e mezzo Top scorer Dell'incontro Con diciotto punti Concentrato E determinato Domina con la sua presenza Per tutto l'incontro Dip Sei e mezzo Prestazione di tutta sostanza Per il totem Rosso-verde Che chiude con undici punti E otto rimbalzi Villa sei Nonostante la febbre Dei giorni precedenti Il plemicherino Scuola Olimpia Stringe i denti E tiene il campo Per diciotto minuti Consentendo a Simoncelli Di rifiatare Fratto sette e mezzo Semplicemente Il ministro Della difesa Con lui in campo Livorno Non segna praticamente mai Domina letteralmente La lotta Sotto i cabelloni Dove cattura Sedici rimbalzi Torgano Sei e mezzo Al rientro Dall'infortunio Non si poteva chiedere Di più Impegno e grinta Non mancano Cerca in tutti i modi Di fare canestro E quando finalmente Ci riesce Tutta la panchina Si alza in piedi A festeggiare L'immagine più bella Di tutta la serata Marcello Un flash Sul capiato in generale Poi lo chiedo anche A tutti Nel senso che Nel girone B Sono rimaste Quattro squadre imbattute Tu vieni da un altro Un altro girone Hai vinto I gironi Negli ultimi due anni Ottenendo due promozioni L'impressione è che Al completo Questa squadra Davvero non debba temere nessuno Ne parlavo ieri Anche con un paio Di procuratori Sì I gironi secondo me Sono completamente differenti Innanzitutto Poi Il nostro È un caso a sé Ti posso dire che Noi al completo Siamo una Una bella squadra Tosta Anche molto fisica Che è quella cosa Che io Prima di arrivare qua Ho chiesto alla società E all'allenatore Di fare una squadra Fisica Perché In questo In questo campionato Conta moltissimo Conta molto E poi Ci sono Adversari Importanti Interessanti Non bisogna Passare mai la guardia Perché Poi Ti trovi Che Vai a giocare Queste partite Lontano di casa Che tutti pensano Che è facile vincere Ma ti trovi Che Rischi di perdere Una partita E questo Non perdi due punti Perdi quattro Capito Perché sai Che le adversarie Quelle che competono Contro di te Non andranno a perdere Quelle partite Non è scontato Vincere a Livorno Di 27 O battere il college Per esempio Per domani 45 Cioè c'è il rischio Lo chiedo per tutti Di dare troppo Per scontato Sia Le vittorie della Paffoni Nel girone A Di serie B Sia le vittorie In Cigol Cioè si è detto Da inizio dell'anno Queste sono due squadre Super per i loro campionati Però non è che tutto È dovuto Assolutamente No Ti rispondo io Per prima Secondo me No Questa è una cosa Che ti L'ho detto io Anche la seconda giornata Terza giornata Che abbiamo fatto La presentazione A Bagnella L'ho detto Ragazzi Ci dobbiamo focalizzare Mentalmente Che le partite Saranno tutte dure E ai tifosi L'ho detto Stateci vicino Perché Anche quando si perderà Una partita O due O non lo so E spero che non si perdano Però Arriverà il momento difficile Nella stagione Che dobbiamo stare tutti uniti Perché non è Non è detto Che dobbiamo vincere Tutte le partite di 20 Basta vincerla di 1 Arrivare fino in fondo E via Capito Oggi come oggi Conta il risultato Dobbiamo stare uniti Tranquilli E non ci saranno Partite facili Anche domani La partita sarà difficilissima Loro tutti vogliono Vincere contro Omegna Venire a giocare A Vervania Con il palazzetto pieno Sanno che c'è Un seguito importante Sanno che Gli avversari dicono Eh qua ci sono I giocatori importanti Che questo Che quello che guadagna Che qua Perché è sempre stato così Io conosco l'ambiente E tutti si gassano Allora quando le squadre La vedi contro altri avversari O nei video Che non sono squadre importanti Però poi contro noi Diventano squadre Di a due Capito Segnano tutti Tutti prendono rimbalzi Perché vanno a mille E' una vetrina Per quei giocatori là Quindi dobbiamo essere Sempre attenti Concentrati Giocare Non 40 minuti Se non 41 Fino all'ultimo E non regalare niente A nessuno E essere tosti E pensare Che ogni partita E' una finale Se vogliamo Dare un'identità A questo campionato Federico Poi Marco Girone Sono squadre Con giocatori importanti Quindi le partite Vanno assolutamente preparate Con massime Concentrazione Tutte Marco Luca Sì appunto Anche secondo me Come ha detto Marcello Dobbiamo sì Vedere al massimo A cui possiamo Raggiungere appunto Però ogni partita E' a sé E in ogni partita Dobbiamo dare il massimo E anche se siamo In un punteggio Diciamo Superiore Fino al quarantesimo Non è mai finita Sì sicuramente Confermo Quello che hanno detto tutti E le partite Diciamo Quelle che arrivi Che magari le prendi Sotto gamba Così che dici Vabbè Sappiamo come andrà a finire Sono quelle che poi Ti riservano Le sorpresine finali Anche perché Borgomaniero Comunque Anche con crocetta Così non è che Insomma Se la sono vinta Poi abbastanza Negli ultimi due quarti Quindi Non era da sottovalutare Non l'avete fatto Ci sentiamo le interviste E le vostre di Pagelle Vediamo Coach un punteggio Che dice molto So come è andata la partita Possiamo dire Sì ma la partita Il terzo e quarto Non era più Beritiera Le due squadre Lasciavano far canestra Entrambe E diciamo I giocatori Riuscivano a segnare Con continuità La vera partita È stata I primi due quarti Dove la squadra Che noi Abbiamo difeso Veramente molto bene E ci ha permesso Poi Di prendere subito Il parziale Lì credo Che sia finita la partita Terzo e quarto È stato Un giocare Per Molto blando Difensivamente Devo fare complimenti A Serroni Perché non era facile Da capitano Da giocatore Non può giocare In questo momento Condurre una partita Faccio complimenti A ragazzi Al mio staff Perché veramente Hanno superato Anche questa Perché oggi C'è stato Un errore Da parte Della società E ci siamo trovati Tutti fuori Dalla panchina E questo è Un errore grave Che non può succedere È una società Che deve ambire Andare in serie B E deve crescere Dobbiamo migliorare tutti Come noi Come squadra E noi E come società Dobbiamo crescere Perché poi Nelle categorie di sopra E nelle squadre Di vertice Le piccolezze Fanno la differenza Ed è importante Che si cominci A comprendere Che tante piccolezze Tralasciate Alla fine Fanno i grandi errori Quindi dobbiamo incominciare A tutti quanti A lavorare meglio Ecco Proprio in ottica Di categorie superiori Il vostro diretto avversario Oggi ha riposato Crocetta Quindi avete Guadagnato due punti Di vantaggio per ora Sì ma non sono reali Quindi Fondamentalmente A noi Quello che ci cambia È la partita laggiù Loro Per assurdo Arrivano più riposati Più Più Meno stanchi di noi Noi Stiamo tirando la carretta Fortunatamente Ora ci sta dando Una mano anche Matteo Che ancora non è al 100% Ma presto lo sarà Bertona Quindi piano piano Qualche d'uno Rientrerà E magari Quando avremo Tutta la squadra Completa Potremo pensare Da qui alla fine Nel campionato Che cosa succede Certo Oggi come oggi Crocetta È una squadra Più forte di noi Dal punto di vista Di nomi Perché ha 5 giocatori Di categoria superiore Tutti e 5 Vengono dalla serie B Ha buoni cambi E noi Giustamente Abbiamo due giocatori Serie B E prevalentemente I giocatori C1 Che hanno Un'esperienza Relativa In serie B Se non l'hanno mai avuta Quindi sta a noi Farli crescere Come i giocatori E cresceremo anche Come squadra Uno di quelli Con esperienza In B E Serroni Quali sono le sue Condizioni al momento Com'è il decorso L'infortunio Guarda non lo so Se lo riusciremo A recuperare Per Crocetta Ogni domenio Per noi È un tentativo Di recuperare Qualche d'uno Ci siamo riusciti Ombertona Ora speriamo Di recuperare Anche Serroni Ci vorrà forse Molto più tempo Con Con Fornara Che anche lui È un giocatore Per noi fondamentale Ci vorrà un pochino Più di tempo Però poi piano piano Usciremo fuori Ecco Rotundo Sempre nel vivo Del gioco Non fa mancare Intensità Sotto entrambi i canestri Miglior assistman Insieme a Kubekalovic Voto 7 Kubekalovic La sua seconda tappa Domodossola È iniziata In maniera entusiasmante Altri 27 punti A referto Per Borco Che con 5 triple A segno È il miglior tiratore Dall'arco Della partita Voto 7 e mezzo Bertona Reduce da problemi fisici Viene dosato Da Serroni E mette nelle gambe Minuti importanti Voto 6 Avanzini Si prende il lusso Di fare il canestro Dei 100 punti Ma il numero Che racconta meglio La sua partita Ha uno zero in meno 10 sono i rimbalzi totali Di cui 8 difensivi Fisicamente incontenibile Voto 7 Tom May L'ex stella della San Giorgese Scende in campo Con la mano bollente 8 su 9 da 2 E 4 su 6 da 3 Per il top scorer del match Con 28 punti Voto 7 e mezzo Zeneli Un gigante Sotto canestro Fa letteralmente Ciò che vuole 9 rimbalzi Di cui 6 difensivi 18 punti dal campo E 24 totali Voto 7 e mezzo Antonietti Finché c'è partita La Vina Vilcipir È perfetta in difesa E il suo numero 3 Da un serio contributo Voto 6 e mezzo Dunque guardiamo Al futuro prossimo Che significa Due partite In tre giorni Per la Paffoni La prima domani Contro la bestia nera Varese alle 18 Al Palabattisti Bestia nera Perché l'anno scorso 0 su 2 Sconfitta a Varese Alla terza giornata Poi sconfitta anche Al Palabattisti Quindi E poi anche storicamente È una squadra che Anche ai tempi Della Serie B2 Vince la semifinale Playoff 2 a 0 Contro Contro la squadra Allora L'hai notata da Croti Quindi è una squadra che Storicamente Ha sempre dato Fastidio Tra virgolette Sì 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 Ed è una squadra che Ha giocato Ha tanti punti Nelle mani È un po' Un otto volante No? Se becca la giornata buona Può segnare 90 100 punti Con Bloise Che In casa Una partita Ne ha fatti 46 O altrimenti Al contrario Ne fa 45 Certo No non lo sapevo Adesso Oggi abbiamo visto Un po' il video Però non sapevo Che questa cosa Quella che avete perso Tutte e due le partite Andate al ritorno L'anno scorso Quindi Sì Vediamo un po' Adesso stasera Adesso al pomeriggio Prima Alle 5 quarto Abbiamo un altro Pezzo di video A vedere Come giocano loro Gli schemi Queste cose Ci allenaremo Pensando Ma Sicuramente domani Le partite Infrasettimanali Sono Complicatissime Poi Alle 18 Sarà tosta Però Penso che Se noi vogliamo Come ripeto Sono ripetitivo Pensare là Bisogna vincere Come sia C'è una partita Che va vinta E basta Punto E finito Non bisogna fare Altri calcoli Dobbiamo vedere Un pochitino Di recuperare Di recuperare Gli infortunati Adesso Torgano sta molto meglio Ha dato un contributo A Livorno Già siamo un po' più lunghi Stiamo aspettando Tommaso Milani Che per noi È oro Però Vediamo un pochitino Poi Di Piz Sta Molto meglio E lui Secondo me Un giocatore Se l'ho detto Già il primo giorno Quando l'ho visto Che Appena Avrà un po' di continuità E si toglie un po' Queste cose Di infortuni Piccoli infortuni Ad osso Farà una bellissima Carriera È un giocatore Che Che ha voglia di parare Sì 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 Molto tranquillo Umile Che è la cosa Che a me più mi piace Se lo dico sempre Se lui continua così Tranquillo Sereno Senza Tante cose per la testa Farà bene Federico insomma Sabato C'è la partita Che può decidere già Di primato Sembra eccessivo Ma è così Cioè nel senso che Non ce ne vogliono Le altre squadre Questo è un campionato Dove ci sono Dom e Crocetta Che sono nettamente Superiore alle altre E lo sconto diretto Ha un peso Quintuplo Rispetto alle altre partite Cioè Vincerlo sarebbe il top E perdono Ma se dovesse arrivare A una sconfitta Cercare anche di contenere L'eventuale disavanzo Però chiaramente Andiamo là per vincere Ovvio Chiaramente Andiamo là per vincere Sicuramente Sappiamo che non sarà Non sarà facile Perché non sarà facile Perché è una squadra Molto preparata Con giocatori Molto Molto preparati Però sicuramente Anche noi Durante la settimana Ci alleneremo Per quello E basta Per preparare Quella partita Sicuramente I ragazzi Daranno il massimo Sono sicuro di questo Poi La vittoria Sconfitta Quello Decideriamo Ecco Regolamento Confesso la mia ignoranza Due anni fa Alla Final Four Final Eight Di Coppa Italia Arrivavano anche Le squadre di Cigold Quest'anno Non mi ricordo Se è prevista Anche la Coppa Italia Per le squadre di Cigold Sai che non lo so Non lo so Non credo però Secondo me Forse è dall'anno scorso Che non c'è più Perché Non credo Infatti Non credo Infatti Il 20 sarebbe stato importante Anche per quello Insomma Dopo queste parole Di Marcello Lì puoi anche andare a casa Vabbè Ringrazio per le belle parole Però Alla fine Le parole Contano Il giusto Importante È che Il lavoro Venga fatto sul campo E Grazie a allenatori E appunto Anche l'aiuto Di una bandiera Come Marcello Semi capitano Bandiera Leader Sì Io mi sto toccando Sì Manca solo l'epitaffio Mamma mia Manca solo l'epitaffio Manca quello Luca Crocetta Sabato Loro non avranno giusto Voi Non avete Fornara E non avrete Serroni Insomma Tre pedine importanti Che mancheranno Però è una partita Che vale tanto Sì È una partita Che vale tantissimo È da Quasi inizio anno Che è in sfogliatoio Sontino Crocetta 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 E adesso Ci siamo arrivati Sicuramente La settimana La affrontiamo Come Tutto Come abbiamo Fornato Borgo Maniero Come tutte le altre squadre Cercando di stare tranquilli Anche so Ovvio che Un po' più di pressione È normale che ci sia Cioè È anche giusto Penso che ci sia E niente Sarà difficile Perché andiamo fuori casa Loro sono una buona squadra C'è Carelli Così che abbiamo già affrontato Alba Nella promozione Serie B E anche Gioria Così Quindi Dovremmo impegnarci tanto Questa settimana Sicuramente Poi faccio l'ultima domanda Adesso ci vediamo Il punto sulla Serie D Con la doppia sconfitta Per le nostre squadre Vediamo Con Davide Tomasi Ancora senza successi esterni La di casa Poi le opposti Cestistica Domodossola Che compie un passo indietro In quel di San Mauro Perdendo 67-59 Nonostante un primo tempo equilibrato Dom non è mai sembrata Completamente dentro la partita Concedendo ai padroni di casa La possibilità Prima di scappare Nel terzo quarto Poi di vincere Per 67-59 Non sorride nemmeno La vega occhiali Gravellona Sconfitta da Gagliate 68-74 Lobasso e compagni Hanno un buon approccio Alla gara Con diversi tentativi di fuga Specie nel secondo quarto Ma gli ospiti Riescono sempre A non affondare Nel secondo tempo La musica cambia Con Gagliate Che aggancia E sorpassano il risultato Mentre Gravellona Non trova più Le risorse per inseguire Cedendo così Per 68-74 Nel prossimo turno Domodossola riceverà La vittoria Torino Mentre Gravellona Andrà a caccia Di punti salvezza Contro il fanalino Di coda Alessandria Nel prossimo turno Domodossola riceverà Il vittoria Torino Mentre Gravellona Andrà a caccia Di punti salvezza Contro il fanalino Di coda Alessandria Intanto svelato l'arcano Io la prima volta In vita mia Che sento un cane Che si chiama Nice Diva Penso che Se potesse Andrebbe all'anagrafe Dei cani Se lo farebbe Cambiare subito Questo nome Come succede Ogni tanto Per le persone Ultime domande Che vi faccio È questo Due temi Marcelo Sei stato qua Due anni fa E ti chiedo Analogie E differenze Nell'ambiente Rispetto a due anni fa Invece Con Luca E poi con Federico Ho visto Una critica Costruttiva All'ambiente Da parte di Michele Marinello Su Facebook Dove diceva Che domenica C'era pubblico Per sembrare Di essere Un po' a teatro Quindi magari L'appello Che possano tornare A sostenervi Gli ultrassi Marcelo Guarda La differenza Non l'ho notata Molto La gente qua Segue molto La Palacanestro Molto appassionata Alla Fulgor Sì c'è una differenza Una categoria In meno Però Vabbè È andata così Io Appena ho avuto La possibilità Di venire qua Ci ho pensato Tanto Ma Poi ho visto Che le cose La volevano fare Bene La volevano fare Con Con un obiettivo Ben preciso E non ho dubitato Mezzo secondo Quindi Alla fine Spero che Tutto quello Che Mi sono immaginato In estate Si possa raggiungere Io L'unico che voglio Come lo dite ragazzi Il primo giorno Che ci siamo visti In esploratorio L'ho detto Ragazzi Aiutatemi Io farò qualunque cosa Anche portare Le valigie A chiunque Con tali che Mi date una mano Ad arrivare A questo Venedetto 11 giugno Poi lì Una cosa Sì Però Vediamo un pochino La differenza Non vedo niente Solo che I tifosi Vedo sì Una curva Un po' più organizzata Un po' più di tifo E come Ricordo le parole Simoncelli Anche La presentazione Torno sempre Alla presentazione Vagnela Chiedo Non è che chiedo Però Dico ai tifosi Di dimenticarsi Un pochino Di quegli Bellissimi anni Della serie A Degli americani Di tutti Aiutare A tutti questi ragazzi A me Io mi diverto Più in serie B Sì Vabbè Quella è un'idea tua Sono d'accordo Umanamente Umanamente sì Per i tifosi Che pagano i biglietti Può essere un pochino Più L'altra cosa Però Tornando al discorso Volevo chiudere Con questa cosa qua Di aiutare i ragazzi A me sicuramente Un U Un A Un E Così Non mi disturba più Ai ragazzi più giovani Sono sicuro Che questa cosa La butta un po' giù Quando si sbaglia un canestro Due Tre O quattro Bisogna stare vicini ai ragazzi Incitarli Che tutti insieme Dovremo arrivare Fino in fondo E non pensare Al momento Quella situazione Che uno Non vuole mai sbagliare Un canestro O fare un passaggio All'avversario Solamente questa cosa Che si vede E si sente In palazzetto Ogni tanto Vorrei che i tifosi Che a me Mi dicano Qualunque cosa Io sono abituato Anche Ho giocato in campi Molto più complicati Di questi Ho giocato finale Coppa Italia Queste cose qua A me non mi scivola Tutto addosso Per i ragazzi Agli Andera Questi un po' più giovani Li chiedo ai tifosi Di aiutarli Nei momenti di difficoltà O anche alla squadra Questa è una cosa Molto importante Se vogliamo Raggiungere Almeno Quell'obiettivo lì O se no Non andremo A nessuna parte Bravo Marcelo Federico Beh Anche da noi La palazzetto È molto seguita Come da loro Praticamente Il palazzetto Era pieno Era pieno Certo Servirebbe Magari Qualcuno Che Facesse un po' Di tifo Proprio A livello Di quei ragazzi Che mi dicevano Che c'erano L'anno scorso Che purtroppo Quest'anno Non li ho potuti Conoscere Trovare in palestra A parte Quest'ultima partita C'erano due ragazzi Che hanno fatto Un pochino di tifo L'hanno fatto Gli ho anche ringraziati Personalmente Speriamo Di ritrovarli Più numerosi Come l'anno scorso Che mi hanno detto Che era Veramente Bello Sentirvi Cantare Sentirvi Eccitare la squadra Non è una cosa Indifferente Chiudiamo con voi due Cosa ne pensate Allora Io diciamo Sono un po' viziato Perché vengo Da un ambiente In cui la curva È tutto il palazzetto Ovviamente A Pistoia Però Diciamo Che anche Essendo due categorie sotto Anche in trasferta I nostri tifosi Si fanno sentire E questa è una bella cosa Sì Come dicevi prima C'era gente Al palazzetto Pieno Però Cioè A tratti Personalmente Anche un po' Imbarazzante Nel senso Sentiva lo scricchione Del parquet Quasi E Rispetto All'anno scorso Due anni fa Anche Che Cioè La gente Quando diceva Andavamo a giocare A Domodossola Prima pensava Quasi All'ambiente Che poi Alla squadra Dalla Bolgia Che c'era Non so Se quest'anno Sinceramente Cosa stanno aspettando Sai C'è chi diceva Aspettiamo Aspettano che vincono Così Lo stiamo facendo Adesso Però Tocca a loro Venire Tornare come ai vecchi tempi Che serve È bello Aiuta E Una figata Quando c'è casino Marcellino La tirata La stoccatina Bravo Bravo Luca Io dico sempre È chiaro Che magari qualcuno Era affezionato Lo dico A un giocatore Che adesso A dei giocatori Che adesso Non ci sono più Faccio riferimento A Domodossola Perché l'ambiente Della Paffoni È stato in serie A E in serie B E quindi è diverso Domolo l'anno scorso È stato il primo anno Di serie B E quindi cambiano Tante cose È chiaro Che Ripeto Ci sono state Delle bandiere Che sono andate via Però Morto un papa Se ne fa un altro Se uno è attaccato Alla squadra Deve Tifare Il giocatore Che arriva Ma poi può essere Simpatico Meno simpatico Ci vai a bere la birra O non ci vai a bere la birra Io personalmente Con Qualche giocatore Anche del recente passato Ma neanche la caramella Fuori dall'emporio Occhiali Fattore Out Te avrei mangiato Però Insomma Il tifoso Deve fare il tifoso Deve sostenere sempre la squadra Grazie Luca Marcellino Grazie a voi Grazie a Marco Lipizzo Forza Grazie a voi Grazie a Simu No Federico Fornara Anche lui Lo aspettiamo presto in campo Mi raccomando Grazie a voi Grazie a voi Grazie a Marcellino Di Quando parla Non parla mai a caso Grazie Dani Grazie a voi Aspetto ai tifosi domani Che ci diano una mano Per Per continuare Questa Questa Diciamo Questa avventura insieme Adesso il punto del giovanile Ci vediamo Baschettando Con martedì prossimo Alle 20.35 Anzi alle 21 Chiedo scusa Alle 21 Nulla da fare Per l'Arona basket Di coach Bussoli Che sul campo di Vercelli Non riesce a stare in partita Per più di 10 minuti Venendo sconfitta Dai Rice Con il punteggio Di 85-67 Per Arona Ora è tempo di derby Sabato sera Al pala Vikings Arriverà a Gemme Nell'Under 20 Trionfa nel derby Tra Cugini L'Arona basket Targata a Nobili Don Bosco Che nel Monday Night Si è imposta Con il netto punteggio Di 67-50 Dopo un inizio opaco Arona riesce finalmente A trovare il giusto ritmo Trovando importanti soluzioni Vicino a Canestro Che aprono considerevolmente Il gap tra le due squadre 31-19 Alla pausa lunga Nel secondo tempo La contesa Si fa decisamente più maschia I contatti sono continui E a pagarne le conseguenze E la fluidità del gioco Confuso E meno tecnico Rispetto a quello Del primo tempo Nel non gioco più totale Arona mantiene la lucidità E strappa Un prezioso referto rosa Dopo tre sconfitte Consecutive esterne È il pala Vikings A dare la prima gioia All'Under 18 Elite Di coach Romerio Che grazie ad una buona intensità Ha superato 71-67 Vercelli Cade l'Under 16 regionale Che si adatta al gioco Di Borgomanero Finendo poi Per rallentare all'infinito Il proprio attacco Secondo successo In due partite Per l'Under 15 regionale Di coach Micheletto Che dopo aver esordito Positivamente in casa Riesce ad ottenere Due punti Anche sul parquet Di Borgosesia Doverona Dilaga Vincendo con Il nettissimo punteggio Di 42-94 L'Under 13 Elite Non dà scampo a Vercelli Che sul proprio campo Gioca un discreto primo tempo Fatto di voglia E intensità Ma poi cede In una seconda metà di gara Dominata da Rona Che si impone 29-90